live social ben ritrovati cari amici ascoltatori di live social e radio roma capitale per un'altra storia i nostri microfoni oggi andiamo a parlare di un'attività sportiva di un'arte marziale molto conosciuta di fase di sviluppo negli ultimi anni ovvero il jujitsu ma prima vi voglio ricordare il nostro hashtag che è storie mi raccomando cercatelo sul web sui social mettete un bel like alle nostre pagine e condividete tutte le nostre storie perché sono davvero molto molto utili e interessanti come quella che vi stiamo per proporre oggi perché andiamo a parlare di una bella scuola che si chiama fusion academy e ne parliamo con andrea franciotti e luigi d'antonio benvenuti grazie di essere qui con noi allora ragazzi ci raccontate un po che cos'è fusion academy come nasce la storia che c'è dietro fusion academy è un progetto un progetto che ormai vivia avanti da diversi anni è cominciato tutto da io provengo dal judo da più di 30 anni di esperienza di judo e nella palestra dove c'ero si cominciava a parlare il jujitsu brasiliano uno sport che veniva dal brasile era con questo fascino un po esotico così e mi ricordo che il proprietario di quella palestra all'epoca mi disse ma visto che so che tu pratichi anche in altre palestre privatamente insomma per fatti tuoi saresti in grado di indicarmi qualcuno tu stesso per aprire un corso proprio qui qui nella nostra sede dove ci alleniamo e allora io lì ci ho pensato un po sono tornato dal mio maestro all'epoca ne ho parlato con lui e con andrea ci siamo conosciuti abbiamo iniziato così in realtà lui ha iniziato il corso poi le cose sono andate mano mano crescendo e abbiamo deciso di instaurarlo di iniziare questa sinergia di farlo insieme e dall'in poi è stato un crescendo quindi abbiamo portato avanti questa arte marziale in varie sedi su tutto il decimo municipio e quello che abbiamo fatto è stato quello di iniziare fondamentalmente persone che non l'avevano mai fatto persone che iniziano da zero e che non è che si avvicinavano per la prima volta oggi abbiamo un corso con persone esperte che lo fanno da otto nove dieci anni e hanno un background che si è costruito con le nostre forze noi l'abbiamo chiamata fusion academy proprio perché l'idea alla base è stata quella di fondere le nostre esperienze quindi la mia esperienza pregressa del judo e poi completata anche col giuggisto brasiliano che comunque pratico da più di più di dieci anni e con quella di andrea che viene proprio dal giuggisto brasiliano nudo e puro proprio proprio come iniziato e in questo modo abbiamo potuto mischiare la lotta in piedi con quella terra creando un amalgama che secondo noi funziona insomma dei risultati che vediamo anche in gara con i nostri allievi funzionano insomma che cos'è il giuggizzo il giuggizzo brasiliano è un'evoluzione del judo tradizionale dove prevedeva appunto una fase di di lotta in piedi per poi portarla a terra diciamo che lo stile brasiliano è un'evoluzione della parte a terra che fu intuita nel dai dei maestri del judo tradizionale al gigorogano ma poi diciamo i brasiliani l'hanno resa più efficace ecco in combattimenti dove praticamente non era previsto il peso nella durata del tempo e quindi doveva essere uno stile che poteva contrastare anche persone di stazza molto più grande quindi questa evoluzione ha portato uno stile che poi si è sviluppato in brasile attraverso i combattimenti che venivano chiamati valetudo cioè combattimenti senza regole e quindi in sostanza si tratta di portare l'avversario a terra dove praticamente non ha la mobilità che ha in piedi e lì controllarlo immobilizzarlo e finalizzarlo ecco quindi insomma un'attività anche molto complessa nel suo insieme che però può essere un'ottima tra virgolette arma di difesa no perché a conoscere un metodo di difesa personale come questo può aiutare anche quando si incontrano persone come dicevi giustamente anche più grandi di te dal punto di vista fisico che tipo di corsi organizzate noi abbiamo corsi rivolti un po tutte le facette abbiamo ovviamente i kids i bambini e abbiamo un corso dedicato a loro proprio abbiamo un tatami molto grande dove accogliamo nello stessa fascia temporale varie età perché ce lo possiamo permettere date le dimensioni per quanto riguarda invece il corso adulti abbiamo generalmente abbiamo un corso generico adulti dove li prendiamo diciamo dalla maggiore età a volte anche un po prima se sono particolarmente precoci agonisti così e avendo una buona gamma di varietà di cinture riusciamo a fare classi dove la cintura bianca che arriva non si trova da sola quindi non si sente il pesce fuor d'acqua così come però lottatori esperti trovano altri lottatori esperti come loro e creando diciamo un mix un mix molto efficace nello scambio nello scambio diciamo culturale nello scambio di formazione chi si rivolge a voi lo fa per unicamente per sport diciamo così oppure ha poi piacere di confrontarsi anche dal punto di vista competitivo con altre realtà generalmente chi si avvicina al giuggetto brasiliano è perché è stato influenzato comunque dalle moderne mma dove appunto c'è questo combattimento nelle gabbie quindi c'è la parte a terra che poi è il nostro stile quindi generalmente si arriva a noi perché diciamo la moda del momento a meno che non siano persone che provengono da altri strili che vogliono implementare appunto la loro conoscenza nel completare appunto a 360 gradi quello che è il combattimento è necessario avere delle caratteristiche particolari per fare il jiu jitsu oppure chiunque lo può fare la cosa fantastica del jiu jitsu è proprio questa che è un'arte marziale che si adatta completamente alle due caratteristiche fisiche cioè generalmente nelle altre arti marziali di strike quindi di di striking quindi di di colpi magari l'allungo le ha certe caratteristiche fisiche possono magari aiutare invece il jiu jitsu brasiliano si adatta completamente a te e questo è molto importante ragazzi dov'è che svolgete i vostri corsi noi fondamentalmente nella zona roma sud abbiamo la sede centrale headquarter a fiumicino e poi abbiamo anche un corso ad ostia e uno all'infernetto quindi diciamo copriamo per la maggior parte del decimo municipio allora per chi volesse magari scoprirvi conoscervi meglio più da vicino ci sono chiaramente c'è chiaramente il web e c'è il vostro sito web che è fusion academy.it su instagram siete presenti come fusion underscore academy underscore bjj su facebook fusion academy la mail fusion academy 16 chiocciola gmail.com il numero di telefono il 338 441 4638 oppure il 3 3 3 3 6 9 3 7 3 6 9 e vi ringrazio andrea frenciotti e luigi d'antonio per essere stati nostri graditissimi ospiti grazie ancora grazie grazie a voi e noi andiamo avanti altre storie sono in arrivo per voi mi raccomando non ci lasciate live social